Ci buttiamo subito, andiamo a queste fabbriche che ci sono qua a sinistra Non ci vado da tanto Ma Ma ho come minimo nuovamente, esatto Che poi le hanno nerfate ma sono comunque piene di ceste, non capisco quale sia il nerf Vabbè le hanno nerfate molto tempo fa, ok Però Riproviamo la stessa ruota Esatto, i tesori si trovano, i tesori si trovano Non so quanta gente ci sia Mettendo quella col comignolo, c'è un altro team almeno Vedo un astronauta a sinistra Anche io a destra vedo, no no c'è gente, c'è gente E' tranquillo che c'è gente Allora Sotto di me c'è un tipo, sta correndo Una balestra e le granate nuove E' uno sotto No no no, non bloccarmi Ale E' uscito, è uscito Sì lo sono uscito Ma da dove è uscito E' rientrato allora Uh, mi servirà però la balestra Cavolo è sceso Vabbè io sono un fucile a pompa Ma là davanti Si sparano, mi hanno colpito Ha lutto Ok Io ho finito le granate Sta salendo, sta salendo Io lo so E' davanti a me E' nelle scale Vabbè lui Mi ha salvato Due HP Uh Bende Ci credi che Dal colpo che mi son visto arrivare In faccia Pensavo di essere stato atterrato E quindi ero fermo Senza fare niente Aspetta non che mi arrestassi Me lo son sentito Proprio nei denti Aveva bende? Sì no Non avevo io adesso E' quello? Questo Si vedeva solo la testa Non ho esitato Non ho esitato Non ho esitato Ah no ce l'ho la band Va tranquillo Anzi ho il medico Perfetto Usatelo subito Così siamo a posto Mi ne scudi ne hai? No Niente Non ho esitato Prima Te ne ho lasciato uno qua E tu ne ho un altro qua Non me ne sono accorto No forse non me lo sentite L'altro dove? Dove sono passato io Uno solo No ce n'è Oddio Una qua Ah su e vabbè Qua No ok Non l'avevo vista neanche questa Qua c'è pieno di Pallet Come cavolo si chiama? Pallet 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 Il pallet è quello lì Dalla stufa Esatto Uh bellissimo Il tettico blu Allora Vediamo Sicuramente Ci sarà qualcun altro In questa zona qui Più o meno verso shift Mi sa che andiamo lì Infatti Facciamo giusto un altro po' di legna Ah io sono 300 io Io ho 300 Ma forse non l'abbiamo lottato Qua saprei lottato tu vero? Ehm no Ho sentito un fucile da caccia Arrivarci da dietro Ma non verso di noi Da dietro? Si Da Da flash factory Poi mi ho malandare Mi bevo lo scudo Andiamo Anche se Siamo fuori zona Vabbè Vabbè Qua fian Arrivo Perché erano sopra Nell'albero Dove? Sopra dove c'è l'albero grande Davvero? Può darsi Mi hai detto che l'hai sentito Da flash factory Dalla nostra sinistra Flash factory? Si Qua Gli hashifty Ho messo il ping per andare poi Ok Ascolta Andiamo qua che è Un bel lutto Infatti vedo già uno scudo Ok Io me lo son bevuto L'ho trovato uno grande Pistola bianca Due chest qua Prendi Prendi E' tutto Sorprendibile Prendi Ok Ok Vediamo un po' Hai le nuove granate? No Le usate prima Io ce li ho Li ho appena trovate E' un fucile a pompa blu Da parte Ho trovato un altro scudo grande Lo prendo apposta delle bende E' un fucile a caccia E lo prendo apposta della balestra Teoricamente E' un full equip Mi manca solamente Il fucile d'assalto buono Perché ce l'ho bianco ancora Ma io faccio il doppio pompa Ok No io ho tenuto uno scudo e le granate Al posto della doppia pompa C'è una cesta anche qua sopra Sì Molte Un altro Ottimo Sta con gli scudi Ne ho due grandi Che da caccia ce l'hai? Sì sì blu Vedo altra roba blu davanti a noi Penso siano granate impulso La forma sembrava quella Un altro scudo Spero di no Perché non so dove ammettermelo E' un altro scudo grande 75 Penso che mollerò Le granate nuove a te E mi prendo lo scudo Sì sì io ce le do le granate C'è un fortino davanti a noi A nord Andiamo adesso Non l'hanno appena fatto E' full costruito Quindi sicuramente si sono già spostati Ho sentito un airdrop Ma non ho capito dove Ok ho sentito TDD Però non ho sentito manco Dove era Sì come se Cioè si è bugato il suono Perché solitamente fa anche il rumore Di mentre sta scendendo Ma sicuramente era lontanissimo Possibile Siamo anche molto vicino alla zona Il problema è che In mezzo appinapri Nuovamente Colpi come si è messo? Normale Non eccezionale Io ho 91 E 30 del pompa Siamo simili Una 130 del Ok a posto Tanto adesso uccidiamo qualcuno E gli rubiamo tutto Io volevo controllare da qua Però mi sa che non c'è nessuno Molta gente secondo me arriverà da qua Da qua dietro di noi Verso Pleasant Conviene controllarsi anche a sinistra La cosa bella ma allo stesso tempo Bruta di questa montagna È che non devi costruire per salire Ma neanche gli avversari Devono costruire per salire Hanno già costruito Hanno fatto Un border Ah c'è gente dentro Perrazzo Dentro dove? Ok Ho visto l'altro Colpito La gente però sotto di noi Morto Anche l'altro è ucciso? Sì La gente è qua sotto di noi L'ho visto costruire Lancia due sticky Sticky nade Le due granate nuove Ho un destro Ma Davanti a me Non mi ha colpito Non mi stava neanche guardando Non mi ha colpito Va benissimo Hai cura? Spero che ne avessero gli amici Poi amici Boh Ho visto molto l'altro lì Quindi Probabile Mi bevo gli scudi Non lo sai che non c'è Ah c'è un bambino Ok mi vanno bene Vado a luttare il tizio Forse Ok Aspetta che ho visto gente Sopra il palazzo alto alto Mi sto tirando le bende Arrivo Ok Mi hanno preso con una balestra Mentre ero in volo Ho capito Non ho capito neanche dove io Sì ho capito Mi serve un'altra benda No non mi hanno preso Ho preso la caduta Però mi hanno sparato Ok Da dove li hai visti? Mi hanno atterrato Ma Dopo Qua Penso abbiano messo Una Una trappola Nel palazzo dove eravamo noi prima Tiene lo scudo Ok Mi approfitto Quante granate hai? Eh Abbastanza da tenerle tutte Ok perfetto Qui Non so effettivamente dove possono essere Lancia granate È nulla Dove ti avevo i razzi? Allora Volevo provare ad entrare Da queste finestre Non ci sono riuscito Primo Qua ho visto il loot Ma non c'era Ecco dov'è la trappola Ed è probabile che ci sia anche qualcuno Qua c'è un tattico blu No non c'è Io faccio il doppio pompo adesso Penso che è possibile che ci sia gente Sì L'ho sentita mettere la trappola Eh ma magari Basta Boh Forse ancora dietro Oh sta camperando lì Vabbè Entriamo in zona E proviamo a checkinare gli altri Non le guardo più le kill Mi sento un nabbo Ma perché non guardi le kill? 7 a 1 Ah ok Ma perché ho avuto occasioni più eclatanti Anche quello è vero però Stavano Stavano buildando Stavano facendo davanti Allora vediamo Costruzioni davanti a noi a 105 Sto controllando anche dietro ma Sento gli spari Due team che fightano sopra la montagna Un team dovrebbe essere quasi morto Sopra la montagna? Sì sopra Mi piace Perché non mi piace Lo posso dire che non mi piace Passiamo da qua Occhio che sono scale un po' maledete Non mi sa che mi faccio le mie qua Lo vedo Lo vedo Lo vedo Da sopra a sotto Stanno sparando un altro tipo Li possiamo prendere? Sto arrivando Sto arrivando Non ci hanno ancora visto Peccato qualcuno Una terra Lancia granata Eccola terra Lancia Nice Ci sono scudini Un cecchino Ma che stavano sparando effettivamente? A sud Sotto Una terra Li volevo affinare a killare il compagno Ma non ce l'ha fatta Abbiamo gente vicino Non sono sicuro Dai dai Spare Morti Sono dentro la zona allora Vero? Di poco ma si Mi prendo giusto il legno Che ne ho poco Io risalvo su Mi sa Si si ti seguo Tanto è l'unico posto In alto per il momento E la zona sarà tutta altra parte No Una parte ce l'abbiamo in zona Trappola mia L'ho messa nei Nei tornanti Così quando provano a salire qua Ci muoiono Allora Vediamo Gente a 38 Tutti tu li trovi subito Incredibile 28 ma occhio che sicuramente hanno cecchino Si Dietro di noi Dietro di noi Morto Guarda solo E gli altri sono là giù Due contro due Arriva Sempre lì Quello che stavi sparando prima Colpito Gli ho tolto lo scudo E ancora le nuove granate Vero? Ma mi stanno sparando anche da lì Ecco qua Allora Sono due team diversi Oppure la sol Uh ho trovato un lanciare Ragazzi Vabbè Allora Ce n'era uno A est Circa 120 Esattamente sotto di terra No Lo vedo Lo vedo Lo vedo A 80 Guarda il mio razzo Dietro di te Fabri L'ho fatto cadere Un headshot Un ricarico Sbilancia razzi E sotto le scale Che hai fatto tu Una terra GG Oh 13 kg Mamma mia Tutte tu te le sei preso Tutte tu Il mio personaggio sta correndo da solo E non ho premuto F5 Non ho premuto l'autocorsa Si era incastrato Non ho premuto l'autocorsa